Noi siamo venuti a conoscenza dell'esigenza del campo di avere un nuovo defibrillatore e quindi ci siamo attivati prontamente. È uno strumento salvavita importantissimo soprattutto per giovani e meno giovani nei campi sportivi indispensabile. Vorremmo anzi estendere la possibilità anche alle altre associazioni sportive di farci richiesta qualora ne avessero bisogno di defibrillatori. Gruppama come sapete già è sempre il primo posto per aiutare le squadre sportive e noi siamo qui. Chiunque avesse bisogno di questo strumento per salvaguardia della vita ci può contattare e venire da noi in agenzia. Questo gesto di solidarietà va ad arricchire sempre di più una struttura che negli ultimi periodi dopo il rinnovamento di cui parlava poco fa sta tornando alla luce con importanti attenzioni da parte di tutte le società locali che permette lo sviluppo di tutta l'attività sia giovanile dell'SN notaresco ma anche delle squadre di seconda categoria San Nicolese e di tutte le squadre che ne avessero bisogno. Soprattutto in questo momento così importante e particolare per questo siamo profondamente grati alla società per questo gesto. Oggi appunto con la donazione del defibrillatore non solo segniamo un ulteriore tassello per la funzionalità poi pensando al diritto alla salute di chi fa sport nel nostro territorio, nella nostra città ma anche un bel segnale di collaborazione e solidarietà con le associazioni sportive e con tutto il mondo che in questo momento ha tenuto in vita anche nel periodo più difficile del covid il calcio, lo sport che comunque restano assolutamente più bello e più importante messaggio di solidarietà di coesione sociale che dobbiamo rilanciare anche in questo momento storico che stiamo vivendo.